Un caro saluto a tutti e benvenuti, amici di Milan TV, cari abbonati, tifosi rossoneri, un grandissimo stadio, una grande coreografia della Curva Sud che ha messo insieme Halloween tutte le sconfitte della Juventus in finale di Coppa dei Campioni e naturalmente suprema la sconfitta nella finale tutta italiana unica di Champions League fra Milan e Juventus nel 2003 a Manchester. La Coppa, il sogno e il grande incubo è insomma una coreografia capolavoro che ci auguriamo la squadra possa onorare. Liksteiner, la palla dentro che sì, Romagnoli, Suso, 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 il tiro deviato, Ciaranoglu, la rovesciata, Nico, Nico, non riesce a calciare al volo, che grande palla che abbiamo avuto ragazzi, che grande palla che abbiamo avuto. Ancora il tocco per Asamoa, Asamoa appoggia a Pjanic, sta passando molto del gioco della Juventus proprio da Pjanic che dà di bala, di bala, attenzione Iguaini, il tiro. Gol della Juventus, gol della Juventus Iguaini. Dai ragazzi su, dai 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 dai, li abbiamo lasciati giocare troppo su questa palla, siamo stati troppo a guardare e Iguaini ha segnato il suo gol. Vediamo Jesus Fernandez-Aez, tiene la palla, prova a lanciare lungo, molto lungo per Borini, Borini tiene la palla, Borini si gioca, la mette in mezzo, Kalinic la sfiora, Kalinic la sfiora. Che si vede RR, avanza RR, prova a metterla in mezzo, una buona palla, Ciaranoglu, Kalinic, traversa, Mani, 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 la presa con le mani. Mani, incredibile, traversa, io ho visto un Mani ragazzi, ho visto un Mani ragazzi, ho visto un Mani ragazzi. Rivediamo, rivediamo bene, colpo di testa di Ciala a liberare Kalinic, esce Buffon che la devia. Ah no, era Anca, era Anca, mi era sembrato Mani netto, invece era Anca, si sono salvati. E va Zapata, Zapata ha recuperato una grande palla, Suso, 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 allarga per Nico Kalinic. Kalinic, la da dentro, perché sì, che sì si volta, che sì si gira. Borini, Borini, prende palla, Borini, limite, andiamo di là da Suso, Suso contro Asamoa, vai Suso, vai, vai Suso, vai. Suso, Suso, sul fondo, Suso, la mette in mezzo, Kalinic, la deviazione in angolo. Kalinic, ancora è sempre lui pericoloso, deviazione in angolo. Asamoa è riuscito a saltare Borini, attenzione la finta di Dybala o paura, gol, gol di Guaini. Grande finta di Dybala e grandi giocatori, queste sono le grandi giocate dei grandi giocatori. C'è poco da dire, c'è poco da dire. Dai, dai ragazzi, dai, palla dentro, palla dentro, palla dentro, Borini, Borini, la mette in mezzo, Kalinic ha sfiorato di testa, Antonelli. Incredibile ragazzi, tutte sfiorate le palle nostre, tutte sfiorate, pazzesco. Vediamo Pjanic che dà palla dentro, al volo Dybala, Donnarumma, palla passata attraverso tanti uomini, palla insidiosissima. Vediamo Andresilva, Andresilva, Andresilva dentro perché sì, che sì, tiro, la deviazione, salta di testa Andresilva, arriva prima Buffon. E anche qui c'è mancato il guizzo per far gol. Niente, è andata così, è andata così. Ce la siamo giocata, la nostra partita l'abbiamo fatta, la nostra partita l'abbiamo fatta. e hanno deciso di fare i guaini. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.